Una settimana intensa all'insegna dell'incontro e dell'ascolto è quella che il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ha trascorso in Giappone. Nella sua visita ci sono state tappe significative, come Hiroshima e Nagasaki, città simbolo dell'olocausto nucleare, ma anche i Sendai sui luoghi del terremoto e dello tsunami. In Giappone i cattolici sono una piccola minoranza, lo 0,3% degli oltre 127 milioni di abitanti, una chiesa alle prese con i problemi di una società fortemente improntata all'efficienza e al lavoro. Il cardinale Fernando Filoni. Come comunità cattolica vive la stessa problematicità di tutto il paese, cioè un paese grandemente secolarizzato, un paese fortemente industrializzato e anche enormemente organizzato. Diciamo che quella che è la realtà del paese si riverbera anche sulla chiesa. Il paese di per sé sta un po' invecchiando perché il calo della natalità e naturalmente anche nella chiesa abbiamo un calo sotto tutti i punti di vista, sia numericamente, sia l'invecchiamento dei cristiani, sia anche il fatto che in questo paese abbiamo poche vocazioni. E quindi come a livello anche sociale cominciano a portare un po' di mano d'opera per le loro esigenze, così anche nella chiesa cominciano ad essere chiamati sacerdoti religiosi che possano integrare le carenze a livello pastorale. Una chiesa che vanta però radici solide, irrorate dal martirio di San Paolo Michi e dei suoi compagni, dalla persecuzione e danni di nascondimento e clandestinità nei quali la fede non si è spenta ma tramandata grazie anche ai laici. Oggi la loro presenza va sempre più valorizzata per rendere la chiesa giapponese, come ha scritto Papa Francesco nella lettera ai Vescovi del Paese, sale e luce. Il termine evangelizzazione è stato, come dire, un po' il denominatore comune dovunque, a tutti i livelli e credo che sia stato anche ben recepito. Naturalmente cercando di ispirare anche forme che il Santo Padre dice aperte, forme che lui indicano in vari documenti come chiese in uscita, che la tentazione è quella di una chiesa super organizzata che però amministra più che evangelizza. Quindi il Papa su questo punto, voglio dire, ha dato un po' l'indirizzo e credo che questo elemento sia stato recepito. Dunque un impegno rinnovato da parte di tutta la Chiesa proprio nel segno dell'evangelizzazione come il Papa ha indicato.